L'ospite, il primo ospite di questa sera che è Massimo Michele Guerriere, autore di una trilogia sul nuovo ordine mondiale. E allora siamo pronti ad andare a salutarlo e ad accoglierlo. Ciao Massimo. Ciao, un saluto a tutti. Ciao Fabio. Oh, sento un audio perfetto e la cosa mi intriga molto. Benvenuto. Allora, siamo qui pronti per parlare di questo tuo lavoro. Massimo Michele Guerriere è originario di Lucca, classe 58, vive a New York dal settembre del 99, ricercatore indipendente. Gran parte della sua vita è dedicata a mettere appunto un metodo ideale per mantenersi in forma e in salute senza troppo stress. Questa metodologia, conoscita in Italia come Vivi in Linea, in America ha preso un altro nome, Thermal Rope 5000 Metodology. Questo metodo unico nel suo genere al mondo pubblicato nel 2011 sulla rivista Medica Integrative Medicine Clinician Journal. Nel 2016 ha ottenuto il brevetto del governo americano. Grazie o a causa della cosiddetta pandemia ha deciso di presentare le sue ricerche condotte a mente aperta e a 360 gradi senza pregiudizi né politici né religiosi in una serie di interventi con Ubaldo Croce sul canale YouTube Telecroce e poi trascritti e elaborati su carta. L'obiettivo del lavoro non è quello di accusare o condannare nessuno ma quello di porre sul tavolo di lavoro documenti e fatti nuovi senza la comprensione dei quali a suo modesto avviso rimane impossibile capire e migliorare il mondo di oggi. Si tratta della presentazione per la prima volta in Italia di autori stranieri, principalmente anglosassoni che però sono del tutto sconosciuti al pubblico italiano, Maxwell, O'Collins, Stewart, Montgomery, Cooper, Russo e altri. Allora, come introduciamo questo tuo lavoro, caro Massimo? Come credi Fabio, possiamo partire dai libri, possiamo partire dal piano B, come credi te, dal nuovo ordine mondiale. Come è nato questo progetto? Come è nato? Beh, è nato, come hai appena letto, dal fatto che a marzo, all'inizio di marzo, ci siamo trovati tutti a casa a non fare granché, a non fare niente e io ho detto, beh, ora cosa faccio, cosa mi invento? Non sono certo una persona che sta a casa senza far niente. Allora, dal momento che avevo già tutto questo materiale raccolto nel corso degli anni, io dal 2004 non guardo più la televisione, quindi questo naturalmente mi ha permesso di avere un pochino più tempo e io ho messo per imparare l'inglese, mi sono ascoltato tutti questi autori, proprio di tutti i tipi, senza nessun pregiudizio e poi naturalmente sono stato intrigato da alcuni che mi dicevano delle cose un po' particolari, no? Perché io sono sempre curioso da quando trovo un autore o leggo qualcosa che è un pochino diverso, ecco, da quello che in genere si crede. E così io mi sono messo lì, ho studiato quelli che hai letto, poi Justi Smalins e molti altri. E quindi quando a marzo mi sono trovato lì senza fare niente, io ho detto, beh, perché non chiamo il mio amico Baldo, sul quale avevo già fatto qualcosa precedentemente all'epoca con Accademia della Libertà, e abbiamo iniziato così, facendo la prima serie, il Nuovo Ordine dei Barbari, che se volete la faccio anche vedere, eccola qua, se si può mostrare. Eccola qui, faccio vedere, Nuovo Ordine dei Barbari, così qui sono la serie, poi ne parliamo, che è disponibile su Amazon. E la prima serie è andata bene, poi avevo altri documenti e abbiamo continuato con la seconda serie, i protocolli di Toronto, piano piano, 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 ho raccolto, insomma è stato un certo lavoro, perché poi ho dovuto tradurre tutto in italiano, e l'ho dovuto anche integrare con altro materiale, per cercare poi di rendere l'ascoltatore video, ma anche il lettore poi del libro, un po' più informato rispetto al testo originale. E quindi insomma ho tinto da tanti altri libri, ho scaricato moltissime cose, che ora sono disponibili su internet, abbiamo messo insieme il primo volume, completato dalle tre corone, i primi tre libri credo che siano, volumi, credo che siano fondamentali, per capire un pochino anche la mentalità di quello che poi sta succedendo adesso. E poi abbiamo continuato, abbiamo continuato, tutti questi video sono disponibili sul mio canale Massimo Michele Guerrieri, di YouTube naturalmente, per fortuna non sono stati censurati, e questo mi ha fatto molto piacere, anche per tutta una serie di ragioni, e siamo arrivati al capitolo finale, al capitolo decimo, il pentagramma segreto, che ho ultimato circa tre settimane fa, col quale ho completato il terzo volume, che in questo momento non ho, però praticamente questo è, per darvi un'idea, questo è il primo, quello verde, con i primi tre capitoli, questo è il secondo, e questo qui sarà poi rosso, ho deciso di fare tre colori dell'Italia, viva l'Italia naturalmente, che saranno appunto disponibili. e con quella abbiamo finita la maratona, è stata una lunga maratona, però per quello che mi riguarda sono molto contento del risultato che ho ottenuto. Come spiegare, ecco, in breve, quello che stiamo vivendo, così poi andiamo anche appunto a quello che possiamo fare, però intanto come lo inquadriamo? Allora, lo inquadriamo in un processo che è iniziato tanti anni fa, è iniziato tanti anni fa, probabilmente più di mille anni fa, e che si è evoluto nel corso della storia. Nel corso della storia ci sono sempre stati queste, possiamo definirle sovrastrutture, queste organizzazioni, queste fratellanze, chiamatele come volete, questi gruppi che sono tutti di discendenza sacerdotale, per quello che posso aver capito io, e che hanno poi definito il tipo di società, diciamo, camminfacendo, no? Quindi poi siamo passati al Medioevo, piano piano siamo andati su su, e sono sempre, secondo me, stati e sono tuttora al controllo della società, così come esiste oggi. Quello che stiamo assistendo oggi probabilmente è al classico, almeno nel mondo occidentale, è la classica fine di un ciclo, con l'inizio di un altro ciclo. Quindi adesso siamo nel prologo di quello che io poi definisco prologo, nelle conclusioni che sono presenti nel terzo volume, perché scrivendo tutte queste cose ho voluto anch'io dire qualche cosa, ovviamente l'ho dovuto dire, non troppo, e sempre con discrezione. Però ho fatto una premessa e poi dopo ho spiegato tutto e poi dopo sono andate alle conclusioni. Quindi stiamo ancora con queste vaccinazioni, con questo processo, a mio avviso, al prologo del nuovo ordine mondiale, di quello che viene usualmente definito nuovo ordine mondiale, termine che comunque è stato coniato forse più di 50 anni fa dai primi autori che hanno osato scrivere in merito a questo processo. Quindi la storia della dichiarata pandemia serve ad accelerare questo meccanismo? Sì, rappresenta il primo step, il primo processo di questo piano. Sì, esattamente. Secondo me è la prima fase. Ecco, poi dopo ne seguiranno altre, come spiego anch'io nel libro, e poi per farla breve, tutta la storia, naturalmente ci sarà l'intervento del 5G a un certo punto, e poi ci sarà la crisi economica che sarà assolutamente necessaria, magari ne parliamo brevemente dopo, e poi arriveremo a un certo punto in cui, diciamo, loro auspicano di arrivare a quello che Nick Rockefeller ha presentato, ha detto, durante un colloquio riservato con Aaron Russo e che io presento alla fine del volume 2 per la prima volta. Questi sono tutti articoli, credo, quasi tutti, pubblicati per la prima volta in italiano, quindi non trovate niente che è già stato pubblicato, eccetto forse uno che fu pubblicato in maniera molto molto ridotta, in questo allegato che io ho chiamato allegato, Aaron Russo ha questo incontro con Nick Rockefeller che aveva cercato di portarlo dentro al Consulant for a Relation, però non c'era riuscito, e lui gli dice chiaramente che l'obiettivo finale è quello di microchippare tutti, quindi con questo processo qui probabilmente quello che loro hanno in mente di fare, insomma, il cerchio si chiude. Il fatto ecco che questo controllo quindi sempre più capillare a che cosa serve? Cioè perché vediamo un'umanità, c'è chi dice che si sta risvegliando, a me in parte non sembra, però mi fido di chi dice che si sta risvegliando, quindi era per fermare questo risveglio, cioè qual è stata l'esigenza di ecco aumentare questo controllo per arrivare a questo scenario finale distopico di cui parli? Ma secondo me non c'è nessun risveglio prima di tutto, il risveglio dovrebbe a questo punto essere in termini numerici decisamente superiore, probabilmente la maggior parte, il 90% delle persone ancora crede che questo virus esista, che questo sia un vaccino e segue quello che gli dice la televisione. Quindi Ecco e quindi il fatto che vogliano, cioè non gli bastava già così com'era il mondo, nel senso comunque con le persone abbastanza controllabili. No, 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 come ho spiegato prima è un processo lungo, un processo lunghissimo. Dunque le cose che io vi dico non sono idee mie, così. Io spiego tutto poi nel libro. Loro stessi hanno detto che questo è un processo che sicuramente arriverà fino al 2025. al 2025 nel 2025 dovrebbe succedere un qualcosa per cui loro si manifestano, ora io non so cosa intendo loro per manifestarsi, si manifesteranno al pubblico. Questo l'ha dichiarato in un suscritto Alice Bailey e io lo presento, mi sembra ci sia nel libro. Però poi c'è l'agenda c'era l'agenda 21, c'è l'agenda 2030, questi sono tutti documenti disponibili. È un processo che coinvolge anche l'eugenetica, quindi tutti gli aspetti relativi all'uomo, alla riproduzione dell'uomo, quindi gli interventi che stanno facendo sono nella sostanza finalizzati a ridurre la popolazione. Mi dispiace dire queste cose, però purtroppo questo è quello che si evince. infatti nel capitolo 7 io tratto il Georgia Guy Stones che è un famoso monumento in Georgia in America, quello famoso dove ci sono le lapidi di marmo, hanno rifatto tutta questa struttura sull'idea di Stone Age in Gran Bretagna. È probabilmente stato fatto ormai con una certa sicurezza dai Rosa Crociani che hanno finanziato il progetto e su questa lastra al primo punto ci hanno scritto che si aspica di mantenere la popolazione ad un massimo di 500 milioni di persone perenne, cioè poi non può andarne più su né più giù, grosso modo rimarrà a quel livello lì. Questo è quello che hanno scolpito loro su pietra, non è un'idea mia, dobbiamo soltanto porci delle domande e riflettere su queste cose. Stanno arrivando delle domande, il nuovo ordine mondiale chiede Nadia, ha a che fare con il Great Reset? Allora, qui bisogna intendersi cos'è il Great Reset. Allora, la risposta è sì per quello che riguarda il processo di eugenetica che dicevo prima, cioè il Reset siamo noi, noi intendendo umani come persone fisiche, come numero e come qualità del genere umano, perché evidentemente stanno cercando anche di giocare un po' sul DNA. Il Reset che comunemente invece si definisce per Reset è quello economico e secondo me è una grande balla, non ci sarà nessun Reset economico. che poi come dire anche le informazioni che vengono messe in giro non si sa mai se sono fenomeni reali o se sono depistaggi che poi magari finiscono nel gran calderone che rende tutto ancora più caotico. Esatto, è toccato proprio un punto centrale se ti ricordi anche in passato anche io ti ho fatto dei commenti su certi interventi, su certe storie che arrivano dall'America, io queste cose qui queste cose ormai le ho digerite 10-15 anni fa. Tutte queste storie sugli alieni, sulla base 51, su tutti questi personaggi, su tutte queste storie, sul Nejara, il Gesara, tutte queste, poi c'era tutte cose che sono a mio avviso create ad hoc dai servizi per confonderci e intrattenerci perché quando leggerai il capitolo 4 spero che tu trovi il tempo di leggerlo, no? Poi il libro, la trilogia, ci sarà un attore che ti spiega esattamente come funziona grosso modo, almeno come funzionava in America, ma la stessa cosa anche in Italia, come funziona il sistema della comunicazione. Cioè, ci sono degli istituti apposta che sono queste solistrutture che sono lì per gestire i media, no? Lo sappiamo questo, un pochino, un po' più, un po' meno, loro controllano tutto, ma non si limitano a questo, controllano anche l'opposizione o cercano di controllare anche l'opposizione e questo naturalmente lo fanno perché sono molto bravi in quello che fanno, sono esperti di comunicazione, sanno esattamente quello che fare, hanno risorse enormi e praticamente siamo in una situazione di grande confusione, lo sai bene, è difficile capire quello che è vero o quello che non è vero, oggi ci dicono una cosa, domani ce ne dico un'altra, quindi tutte le notizie in particolare quelle che arrivano dall'America, guardate io faccio un po' di consulenza adesso, se proprio avete una di quelle notizie bomba e la volete pubblicare chiedetemela a me prima, magari me l'hanno già mandata giorni o settimane fa e vi posso dire ecco se è una notizia attendibile o meno, la maggior parte purtroppo non lo sono. Ecco, visto che appunto abbiamo questa possibilità di avere notizie attendibili da te, tutta la storia Trump, Brogli, che ci puoi dire? Allora guarda, ti posso dire questo, che tutta la storia americana andrebbe riscritta, sai che Ubaldo Croce mi ha sollecitato tante volte a riscrivere la storia americana, ma mi ci vorrebbe forse due anni di lavoro e chiaramente non ce li posso dedicare, poi alla fine mi mettono anche in galera, no? Lasciamo perdere, nel senso che purtroppo l'America non è la nazione che noi si pensavano, Cioè l'America non è una nazione, allora vediamo un po' quello che vi posso dire. Il problema di Trump è in parte corretto, perché? Perché effettivamente anche dagli autori che ho approfondito io, effettivamente in relazione proprio a quello che vi dicevo, l'America è sempre stata una compagnia privata dal 1871, dal 3 agosto del 1871, va bene? Compagnia privata, perché dopo la guerra civile andarono tutti in bancarotta, intervennero 40 superricconi americani che si comprarono l'America e questo è stato pubblicato tanti anni fa, è nel libro. Poi, ora, quello che è successo è che probabilmente Trump ha in buona fede cercato di recuperare parte della vera tradizione americana e questo si è visto e l'ho notato anch'io da tante cose, però non dobbiamo dimenticarci che anche Trump fa parte di quello che nel libro George Carlin chiama il grande club e il grande club sono le sovrastrutture che vi dicevo, quindi anche lui quello che può fare era molto limitato ed è ancora molto limitato, capisci quello che ti intendo dire? Comunque la risposta è questa, la risposta è che non c'è niente di chiaro, effettivamente c'è qualcosa che sta succedendo dietro la scena, però sinceramente non si hanno informazioni affidabili che ti posso dire è così, non ti posso dire più di questo. Poi ti chiedono cosa ne pensi dell'arrivo di Draghi? Preparatevi alla patrimoniale, Draghi è un personaggio del sistema, quindi lui è un a parte di queste sovrastrutture e probabilmente in una situazione caotica come quella che si era creata con Conte hanno pensato di mettere Draghi per sistemare un po', ma sono solo macchiaggio di facciata, non cambierà assolutamente niente, assolutamente niente, niente, faranno il solito governetto, non eletto da nessuno, è un altro, no? Sarà un altro presidente, cioè presidente, un altro ministro, come si chiama, che non sarà eletto da nessuno e che rimarrà lì per continuare questa opera, cioè il piano fondamentale, ti faccio un esempio, quando i vaccini sono stati approvati, cioè resi disponibili, Trump in 24 ore ha fatto l'executive order, cioè Trump doveva bloccare, poteva bloccare questo processo e invece non ha fatto niente, perché i passi fondamentali comunque andranno avanti, un po' più velocemente, un po' più a rilento andranno avanti, quindi l'arrivo dei draghi non cambierà assolutamente niente, cosa volete che cambi? Ancora domande, è possibile che nessuno li contrasterà, contrasterà questo progetto? No, non è impossibile, impossibile perché ci richiederebbe uno studio, un approfondimento da parte di molti, della maggior parte delle persone, documentandosi, leggendo, documentandosi proprio, informandosi, e io nonostante abbia visto un certo interesse anche per i video presentati e tutto, mi rendo conto che non si percepisce l'urgenza e non si percepisce quello che sta avvenendo, che è un processo lungo come ho detto prima, e purtroppo non sarà indolore. Se non è un virus, a cosa si devono le sindrome respiratorie? Io come faccio a darti questa domanda, a risponderti a questa domanda che non sono un medico? Io ho spiegato in parte, ho dedicato il capitolo 9 a quello che ho chiamato di VOC, perché per ovviare alla censura di YouTube io ho invertito le parole, no? Cioè come si fa nella cabala, sai si inverte le parole, si invertono i segni, e l'ho chiamato 91 di VOC. Io lì qualcosa dico, però non posso darti una risposta adesso così specifica, perché non ho la qualifica e la competenza per farlo, e poi io non sono mai stato in corsia, non ho la minima idea di quella che succede. Tutte le nostre informazioni vengono fornite dai media, noi non si sa assolutamente niente. Io ti suggerirei di chiedere al tuo medico, il tuo medico se è stato in corsia dovrebbe avere risposta a questa domanda, io non la qualifica per dirti cosa veramente succede. Probabilmente no, la domanda te l'ha fatta perché prima hai detto che non esiste il Vigos, no? Quindi probabilmente la domanda è avvenuta per me. Ah beh, allora in questo senso posso dare, bravo, hai fatto bene a precisare, in questo senso posso dirti qualche cosa e questo lo posso dirti grazie ai documenti che ho trovato, no? Su internet disponibili. Allora, in due parole ed è nel libro. Il dottor Olson ha fatto della Cornell University in California, ha fatto uno studio su 1500 soggetti classificati come morti, come Covid e si sono accorti con la sua equip che non c'era un caso di questa cosa qui, di questo virus qui. erano sostanzialmente influenza A e influenza B. Allora, loro si sono un po' insospettiti, hanno scritto al CDC che è il Dipartimento della Salute americano e gli hanno chiesto un sample, un campione di questo virus per vedere esattamente quello che poteva essere successo. la risposta del CDC è stata non ce l'abbiamo. Ed è finito lì poi? Ma io che commenti vuoi che ti faccia? Basta, cioè è finito lì nel senso che non ho potuto fare niente, io l'ho scritto nel libro e non ho fatto commenti, però questo è un documento ufficiale ed è disponibile. Che cosa è il NOM? No, il NOM è il Nuovo Ordine Mondiale scritto, Nuovo Ordine Mondiale scritto. Eh, ma possiamo dare una perché la domanda è che in questo senso se ne parla ovviamente da tanto tempo, no? Però come lo definiresti, ecco? Ah, è un movimento rivoluzionario, è il movimento, beh, te lo devo dire, è il movimento rivoluzionario che è iniziato con la rivoluzione francese, è continuato con l'unità d'Italia, con la guerra civile in America, con la rivoluzione bolshevica in Russia. Dopodiché può darsi che sia continuato un po' nei vari stati, ma sostanzialmente è una rivoluzione comunista. Te la classifico così, però prendi questo termine un po', però sono state rivoluzioni, ecco, diciamo che racchiude tutti quei movimenti che sono rivoluzionari, è una rivoluzione, è comunque un processo rivoluzionario, il nuovo ordine mondiale, per ricreare un nuovo ordine, nuovo ordine mondiale. che cos'è il cosiddetto piano B? Ecco, allora, iniziamo a parlare del piano B, cos'è successo? Quando ho fatto la prima intervista con Mori Sun, io ho parlato, ho buttato lì il discorso del piano B, perché? Perché io siccome sono contro le vaccinazioni, tutte queste imposizioni, tutte queste cose, sinceramente, io le supporto molto poco e io ho detto io non mi voglio far vaccinare, io ho capito che questo non è un vaccino, in un certo senso, ha altri obiettivi e allora io non mi voglio far vaccinare. Allora mi sono chiesto dov'è che posso andare, io ci sarà la possibilità di mettere insieme un piano B, perché tutti dovrebbero avere in condizioni diciamo di rischio, no? Quando si percepisce un rischio, dice, va a mettere insieme un piano B, magari anche un piano C. Allora io ho chiamato un mio amico che vive ad Ottawa in Canada, lui è Jean Paul, lui è del Rwanda, è un cantante e gli ho detto senti Jean Paul, ma qui sta succedendo, abbiamo già parlato, no? Di un po' di tutto quello che sta succedendo, mi sapeva già tutto e gli ho chiesto, ma mi dice un po', ma dove si può andare, dove si può scappare? E lui immediatamente mi ha detto Tanzania, immediatamente, non ho avuto un secondo di dubbio, Tanzania? Ma come Tanzania? Io so che ti sei africano, no? Ma come tal? E lui mi ha spiegato tutto, mi ha detto che la Tanzania è un paese molto particolare perché per esempio non ha mai avuto guerre fra triscide o solo piccole cose, in questo momento l'economia sta andando piuttosto bene perché sono arrivati tanti soldi dalla Cina, stanno facendo molte infrastrutture, quindi la politica è molto stabile, c'è questo presidente che è PhD, PhD è l'ultimo grado, no? Ho capito quando studi in America, il PhD sono gli ultimi tre anni di specializzazione, quindi è un presidente che sa, è quello famoso della papaya, ti ricordi che fece il test che poi viene è stato rieletto peraltro recentemente altri cinque anni e quindi diciamo che tutti i parametri ho controllato il prodotto interno lordo, l'economia, cioè siamo in Africa, bisogna capire la situazione, però in teoria è l'unico paese al mondo effettivamente che posso dirlo ora con un minimo di sicurezza, l'unico paese al mondo in cui puoi andare che è un vero paese grande, stabile, con una certa stabilità politica che è sempre molto importante, in cui non ci sono restrizioni di nessun tipo, cioè vivono come vanno ai concerti, vanno al teatro, vanno al cinema, si ritrovano tra amici, fanno la vita normalissima che si faceva noi fino a pochi mesi fa e allora io ho detto, ho buttato là questa cosa qui per me quando ho fatto l'intervento e è successo, è successo che mi avranno chiamato, contattato in 50, 60, cioè un sacco di persone e io ho detto mamma mia, cosa posso fare qui per mettere, magari posso dare una mano a queste persone e mi sono messo lì a pensare a un piano, magari qualcuno vuol venire, magari trovo la maniera di dargli una mano ed effettivamente devo dire anche in tempo veloce ho richiamato il mio amico e lui mi ha detto guarda chiama questo e parla con lui, dili che ti chiamo io, un mio amico e poi lì è successo, mi ha messo in contatto con questo avvocato, questo avvocato mi ha messo in contatto con l'avvocato delle immigrazioni, mi ha trovato una signora che parla italiano, capito, ho creato in una settimana e ho già quasi fatto tutto, ora naturalmente succede questo, se uno proprio ha il desiderio, la motivazione, è in un'età diciamo anche da 40-50 anni, quindi con una certa esperienza, è un imprenditore, è sempre stata una persona attiva, desideroso di fare, io gli dico con estrema franchezza, credo anche onestà, scordatevi di fare qualcosa in Italia, scordatevelo, metteteci una pianta sopra, chiudete la pagina e ne aprite un'altra, se ne volete aprire un'altra, vi comunico, vi dico, che probabilmente la Tanzania è uno dei pochissimi paesi dove potete andare e perlomeno avere un'aspettativa di vita, diciamo normale, siamo in Africa, tenete presente sempre questo, siamo in Africa, quindi ora approfitto per dirti anche un'altra cosa e concludo, il piano B è strutturato così, in due parole, se una persona mi vuole contattare per una domanda semplice, poi magari se è possibile mandiamo in sovraimpressione, il sito si chiama, lo puoi far vedere il sito per cortesia? A menteaperta.com cliccate su informazioni, cliccate, scusate, perdonami, punto net, a menteaperta.net state attenti che c'è anche punto com e mi scrivete, no, mmguerrieri chiocciolaiaco.com due domandine veloci e vi rispondo, non ci sono problemi, il mio numero di telefono è 516-712-8801 chiamando l'America dovete fare più uno, mi ha mandato un text message cioè faccio volentieri una chiacchieratina ecco però è una cosa veloce no perché io non posso passare ho dovuto spendere 3-4 giorni a rispondere a tutta questa gente sinceramente non ho tempo per fare queste cose allora non per essere rude però io suggerisco di chi è determinato chi è determinato e vuole veramente fare uno studio anche di mercato cioè uno studio approfondito sul tipo di visto di cui c'è bisogno io questa informazione adesso ce l'ho tutte possono andare sul sito aderire a quello che si chiama il piano B ovviamente c'è una piccola donazione da fare che praticamente va a alimentare anche lo studio e la ricerca fatto se vuole comprare i libri c'è anche un'offerta speciale collegata alla consulenza possono comprare anche i libri a quel punto io ricevo la notifica da Paypal e naturalmente poi ci sentiamo li mando il prospetto loro se lo studiano per bene a quel punto mi fanno tutte le domande che mi devono fare a quel punto ci sentiamo ci può volere mezz'ora ci può volere un'ora poi ci risentiamo successivamente ci sono persone che con le quali ho già parlato 4 o 5 volte cioè non sono uno che sta lì come un avvocato a vedere un lavoro in questa maniera ecco però ci vuole un minimo anche di gestione del tempo perché altrimenti si perde un sacco di tempo e non si arriva a niente ecco questo in due parole funziona così e poi mi coesiva il tema del tuo parli di un imminente crollo della borsa allora sì bravo grazie ringrazio allora facendo questo studio io ho dovuto ho dovuto approfondire il discorso relativo a loro ora ti spiego quello che è successo io mi sono chiesto ma io mi prendo la responsabilità magari di portare un gruppo di persone non lo so magari anche 10 12 famiglie che vogliono venire hanno le risorse e tutto e poi se succede qualcosa io ho la responsabilità di aver portato questa gente bisogna che ci siano delle garanzie allora cosa sono riuscito a fare sono riuscito a trovare un istituto che si chiama AUVEST puoi anche far vedere se vuoi l'immagine un istituto tedesco che praticamente e vendono oro ma vendono oro in una maniera molto particolare cioè loro ti vendono l'oro all'ingrosso e altri anche metalli preziosi vendono anche argento palladio e platino loro ti vendono l'oro se te lo vuoi tenere in casa senza problemi per piccole quantità ma anche per grandi quantità li puoi incordinare un lingotto ti arriva un lingotto con certificato certificato a 99.9 con la certificazione e con il suo numero con una specie di marchio quello è il tuo lingotto oppure te lo tengono questo è a libera scelta poi cosa succede? succede che nel caso in cui te metti caso compri un certo quantitativo ora dico per dire una cifra 50.000 euro di oro metti caso che te hai bisogno di trasferire dei soldi di nuovo sul tuo conto corrente li contatti e loro ti mettono i soldi che vuoi e li rimettono sul conto corrente quindi quello che io suggerisco è nel caso in cui ci fosse una crisi finanziaria dovete ne presentare a quel punto è già tardi quello che io suggerisco è di procedere in questa maniera facendo questo studio sull'oro io mi sono accorto che c'era qualcosa di anomalo nelle borse in particolare nella borsa di New York negli stocks perché siamo tutti a casa bene o male anche qui senza fare niente e gli stocks sono andati su non so se ti ho dato l'immagine te l'ho mandata l'immagine non se la puoi fare bene sono andati su a 31.000 dovrebbe andare giù no? il trend perché è evidente che siamo tutti a casa senza fare niente dal punto di vista del proprio dell'analisi finanziaria si spiega male questa cosa qui io ritengo che siamo di fronte all'ennesima bolla finanziaria speculativa finanziaria quindi se dovesse crollare la borsa perdere il 50% del patrimonio ci vuole poche ore ecco perché io suggerisco tutti immediatamente di contattare il vostro consulente finanziario affrontare la discussione se avete eh se avete quote azionarie eh se avete anche bitcoin tutte queste cose qui state attenti perché bene o male sono tutte collegate e sono un po' tutte cose che vanno bene se il mercato tira in una situazione di normalità ma in una situazione di 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 turbolenza come quella di oggi e di incertezza causata anche dalla pandemia che non si sa quando finirà tutto può succedere tenete presente che non c'è tanto tempo perché secondo me questa cosa qui non può arrivare al prossimo anno ogni momento può scoppiare da da un minuto all'altro quindi fate subito questo intervento con il vostro analista finanziario la vostra banca vendete le azioni che non vi interessano che non sono importanti magari tenete quelle farmaceutiche tenete quelle queste qui quelle un po' più sicure e comprate oro e metalli preziosi compratelo dove volete io non vendo oro io vendo la consulenza se avete bisogno di un un'informazione particolare anche qui mi potete chiamare io vi do le informazioni molto generiche poi vi metto in contatto con questo signore italianissimo che parla italiano la Uvesta è un'azienda tedesca e con lui fate la chiacchierata solita che dovete fare poi decidete in piena libertà quello che dovete fare però in questo caso avrete il grande vantaggio di aver convertito tutto in oro che ricordo è l'unica vera moneta esistente tutte le altre cose sono artifici creati dall'uomo soltanto finalizzati per aiutare il commercio e diciamo pure creare anche un po' di credito cioè a debito sai come funzionano le cose funzionano anche un po' così ecco quindi e poi se decidete di andare avanti magari vi potete far mandare delle piccole monetine di argento con una monetina di argento che vale circa 30 euro avete bisogno di un'emergenza una situazione particolare almeno il pane lo comprate ecco bisogna purtroppo essere previdenti in queste cose perché abbiamo l'esperienza ci dovrebbe insegnare che effettivamente queste crisi finanziarie sono abbastanza ricorrenti in America ci sono nei 10-15 anni c'è una crisi finanziaria guardate che la prossima volta quando arriva cade dall'alto sapete il proverbio cadere dal basso cadere dall'alto poi un'altra cosa che vi volevo dire è che il deposito per quello che posso aver capito io presso questa banca molti hanno detto ah non è sicuro ottenere soldi in banca beh intanto questo non è una vera e propria banca è un istituto specializzato è una cosa diversa però dovete ora vi dico una cosa in due parole però è molto importante dal punto di vista anche esoterico diciamo così l'oro ha per i nostri masters per coloro che gestiscono le sovrastrutture una valenza particolare è considerato un prodotto o una proprio una moneta con un valore esoterico anche se volete spirituale particolare e qui c'è tutta una ragione storica per questo allora facendola in breve quando voi comprate dell'oro voi comprate naturalmente immagino siamo tutti piccoli risparmiatori quindi si compra un po' d'oro e noi entriamo a far parte di quello che si chiama l'outer circle cioè il gruppo dei clienti che hanno comprato un po' d'oro all'interno di questo immaginate una cosa a tre cerchi c'è un cerchio intermedio che si chiama middle circle il middle circle naturalmente nel middle circle ci sono coloro che hanno una certa quantità di oro immagino probabilmente fino a mezzo milione di euro una cosa di questo tipo e poi c'è il nocciolo duro il nocciolo duro è rappresentato da chi? dai grandi imprenditori certamente dal Vaticano dai gesuiti dai la grande nobiltà quindi dai nobili e dove volete che lo tengano loro loro lo tengano in questi istituti possono tenere magari anche nel cavo proprio però in linea di massima li tengono in questi istituti allora vi posso assicurare per lo studio che ho fatto io che nessuno sarà mai in grado di venire e prendervi i soldi in oro i vostri soldi che avete presso questi istituti perché significherebbe anche avere accesso al al nocciolo duro e questo effettivamente è una cosa impossibile da fare poi per quello che riguarda erogatori internazionali parliamo tutti diciamo di soldi puliti che dovrete dichiarare nella dichiarazione dei redditi quindi non c'è assolutamente nessun problema e per concludere a conferma di quello che vi ho detto in questa ricerca sull'oro ho letto un libro di Ferdinand Lips che è un banchiere credo deceduto da poco svizzero che nel libro dice spiega che durante la crisi del 29 in America sapete che rastrellarono gran parte dell'oro non rastrellarono mica l'oro in questi istituti rastrellarono l'oro come fedi o come catenine delle persone normali ma si guardarono bene di andare a prendere quest'oro qui perché quest'oro qui è il loro oro quindi non farebbero mai un'operazione di questo tipo avete capito come funziona? è una cosa molto sottile è una cosa molto sottile però funziona così Massimo io ti ringrazio molto vogliamo oltre a ricordare MenteAperta.net e poi la trilogia dove si trova? Allora la trilogia si trova cliccando su Amazon Amazon trovate tutti i libri questa trilogia come dicevo è costituita da 10 più 1 capitoli che potete i capitoli potete scaricarli gratuitamente dal sito vi collegate e li potete scaricare e la trilogia per 3 euro ho fatto una cosa tipo speciale perché il mio obiettivo è quello di dare la possibilità a più persone possibili di leggere quello che io ho scritto per chi invece vuole comprare i libri ha due possibilità li può comprare direttamente su Amazon i libri cartaceo materiale cartaceo e allora in questo caso si collega li compra quelle che costano costano purtroppo sono un po' costosi per chi vuole invece approfittare dello sconto in questo momento si va sul sito segue tutte le procedure c'è uno sconto del 33% con 144 euro può comprare tutta la trilogia va sul sito clicca su libri segue per bene c'è un bottone alla fine cliccando su libri alla fine della pagina ci sono tutti i prezzi poi alla fine della pagina c'è un bottone bisogna mettere nome cognome e indirizzo per bene perché ve lo devo spedire la spedizione è gratis vi ordinate vi accedete quindi a un'altra pagina ordinate quello che volete ordinare dopo che mi arriva la notifica io in tempo un giorno due giorni vi mando il libro che dovreste ricevere direttamente da Amazon Italia questo è il grande vantaggio di lavorare con Amazon perché si lavora on demand in un tempo ragionevole direi due settimane Massimo grazie davvero e a presto e buon proseguimento è stato un piacere grazie a tutti buonanotte ciao buonanotte grazie grazie stato con noi grazie 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 grazie